L'anno 1865, il D30 del mese di dicembre, nelle carceri giudiziarie, allora una pomeridiana, noi, Cavaliero Orlando Fava, Presidente della Corte Ordinaria di Assise, in seguito alla pervenienza degli atti del relativo procedimento sul conto della detenuta Ciminelli, l'abbiamo fatta condurre avanti a noi nella camera degli esami. E quante erano le trude della banda di Antonio Franco? Voi ci chiamate prude, come se fossimo delle amanti, delle femmine di malaffari, ma noi siamo delle combattenti. Ci siamo ritrovati con questi forestieri in casa, pronti a spartirsi il nostro reno e a rubare le nostre ricchezze, voi come avreste reagito? Signorina Ciminelli, l'Italia si è unita per volere del popolo, ma quale popolo? Anno è nessuna questioniente. Mi chiamo Serafina Ciminelli e non sono la donna di nessuno.